Allora amici youtube, Beppino Audace, ragazzi pre partita velocissimo per raccontarvi la sfida che ci sarà stasera alle 20.45 Giocano entrambi le capitanate, quindi parliamo di entrambi le capitanate, Foggia e Cerniola Il Foggia gioca in casa allo Zaccheria contro il Catania L'Audace gioca contro la prima in classifica a Castellamare di Stabia Ragazzi due sfide importanti per entrambi le capitanate Ma parliamo dell'Audace, perché ragazzi l'Audace dopo la vittoria sul Crotone secondo me ha voglia di ancora dimostrare di avere carattere come ha detto Mr. Tici di giocare bene Quindi insomma mi aspetto una partita abbastanza tosta, complicata per l'Audace Ma sicuramente se giochiamo come abbiamo giocato il secondo tempo contro il Crotone Io penso che la squadra ce la possa fare anche per portarla a casa questa partita Gli ultimi precedenti 2-0 per l'Audace al Monterisi Primo turno playoff 3-0 mi sembra che finì la partita 3-1 Mi sembra Galo Capomaggio Sainz Mazza e Tascone Quindi sì 3-1 finì Mi sembra 3-1 finì Con una grandissima partita dell'Audace Ma ragazzi era l'Audace di Michele Pazienza Questo è l'Audace di Tisci E quindi ragazzi vediamo se l'Audace di Tisci è in grado di battere l'Audace di Michele Pazienza Tra l'altro sono in live sia su Youtube che su Twitch Quindi vediamo se riesco a gestire entrambi le live stasera Quindi canale Uteach Pepina Udace Iscrivetevi al canale anche Twitch Pepina Udace Vediamo adesso se riesco a mettervi in descrizione i due canali Allora ragazzi quindi seguitemi per questa sfida Ah c'è il Foggia, lo Zaccheria contro un Catania Il Foggia ragazzi per cercare contro uno stadio sarà un Zaccheria esaurito Per la super sfida contro il Catania Un Catania che insomma l'andata l'aveva battuto Vediamo se ritorna una squadra di Cudini Riesce a battere il Catania Vedremo, vedremo Quindi ci vediamo per i prossimi Cioè ci vediamo in live tra più o meno una mezz'ora Quindi bella a tutti Seguite la live Bella Pepina Udace Grazie Grazie